Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Quinty Channel e come ogni martedì oggi è uscita una nuova auto In particolare finalmente oggi abbiamo un'auto diversa dal solito, un'auto chiamata Canis Camacho Non so perché mi viene da leggerlo Camacho che costa ben 345 mila dollari, molto molto poco E quest'auto la possiamo trovare sul sito Southern San Andreas Allora quest'auto è un fuoristrada quindi già per me partiamo benissimo perché io amo i fuoristrada Quest'auto se la andiamo a modificare innanzitutto ha tantissime personalizzazioni, cioè ha tantissime modifiche ragazzi Veramente un sacco, oltre che a modifiche che migliorano le sue prestazioni abbiamo anche delle modifiche estetiche Che nella realtà non servono un cazzo però esteticamente sono veramente fantastiche Inoltre quest'auto ha anche diverse livree come la livreea patriottica della bandiera americana Allora raga per quanto riguarda la velocità è un fuoristrada quindi non è che raggiunge chissà quale velocità Mentre invece da fuoristrada si comporta abbastanza bene Infatti l'ho portata per esempio sullo sterrato, nel deserto, sulle colline E raga si comporta veramente benissimo Tra l'altro non capisco perché ma c'erano dei tizi che mi volevano morto Molto probabilmente qualcuno aveva chiamato appunto dei mercenari o roba simile per uccidermi E quindi mi avevano cagato il cazzo per tutta la registrazione Quindi poi se vedete qualcuno che mi vuole morto era per questo motivo nel gameplay Fatto sta che comunque sia quest'auto si comporta bene Niente ragazzi il prezzo comunque sia è abbastanza buono Cioè se state cercando un fuoristrada che è adatto appunto per zone desertiche o robe simili Quest'auto fa per voi anche perché non costa tantissimo E ci sono fuoristrada che costano anche tantissimi soldi Quasi un milione di dollari, alcuni lo superano eccetera Questa qua costa poco ed è anche una buona auto fuoristrada Quindi vi consiglio l'acquisto se state cercando un fuoristrada abbastanza figo anche da vedere E che fa bene il suo lavoro Inoltre io andando su GT Online oggi ho sbloccato anche una nuova maglietta Amunation Che troverete appunto all'interno di un negozio di vestiti Nel capi di abbigliamento parti superiore nella categoria speciali Niente ragazzi queste erano le ultime novità riguardo appunto GT Online Oggi doveva uscire un altro video sul mio canale Poi mi sono ricordato che era martedì e che doveva uscire un'auto E quindi ho posticipato questo video Comunque vi faccio un piccolo spoiler Il prossimo video sarà una top 5 ragazzi veramente bellissima No tranquilli non è una top 5 delle auto più belle del gioco È una top 5 abbastanza interessante che uscirà nei prossimi giorni E poi ho preparato anche un altro video Su richiesta di un mio amico Rocky Che poi andrete a vedere È un speed test Comunque se volete anche dei speed test Me lo potete dire nei commenti E poi posso anche farli Niente io spero che questo video vi sia piaciuto Continuate a seguirmi ragazzi Anche perché tra pochi giorni uscirà appunto questa top 5 Che è veramente una figata assurda E seguitemi anche su Instagram e su Facebook Noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti Noi ci vediamo alla prossima Noi ci vediamo alla prossima